ciao a tutti ragazzi oggi vi presento la nuova linea di melo cosmetica vi faccio vedere che cosa mi è arrivato da parte di questa azienda allora partiamo da questa di qua che è una crema anti age natural filler ed è di 50 ml poi qui troviamo un contorno un siero contorno occhi ed è di 30 ml poi qui troviamo anche una crema dopo sole poi qui troviamo un olio abbronzante con tutti questi brillantini davvero fantastico poi qui come ultimo prodotto troviamo questa crema corpo ad alta idratazione un blocone gigante quindi ragazzi potete trovare tutti questi prodotti sul sito www.melocosmetica.com ma anche li potete trovare sul sulle loro pagine sia di facebook che instagram vi consiglio di dare un'occhiata e io ve li taggerò qui sotto e anche il sito ringrazio ancora l'azienda meno cosmetica allora vi faccio vedere come si usa quest'olio abbronzante e a spray si agita e poi qui nel braccio si va a spalmare guardate la differenza ci sono anche brillantini quindi la vostra palle esalterà di più al suono